Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. I FIPLI per lavori e rallentamenti tra Montelupo Fiorentino e Ginestra Fiorentina, in direzione Firenze e tra la Strassigna e Montelupo verso Livorno. Rallentamenti tra Montapoli Valdarno e Santa Croce sull'Arno in direzione Firenze. Incidente tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno. In A1 per lavori in gallerie e finale 18 tratto chiuso tra il bivio con la variante di Valico e il Rioveggio in direzione Bologna. Chiusi Roncobilaccio e Pian del Voglio in entrata verso Bologna e in uscita provenendo da Firenze e l'uscita di Rioveggio provenendo da Firenze. Rallentamenti per temporali tra Incisare Gello e Valdarno in entrambe le direzioni. A Firenze per il maltempo disagia la circolazione e chiusi per allagamenti alcuni sottopassi. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!